Voglio ricordare l'appuntamento importantissimo del 9 ottobre, data in cui inizierà questa manifestazione didacta, il cui nome, il cui titolo di quest'anno rappresenta già un biglietto d'invito per tutti gli operatori della scuola, voce del verbo innovare. Quindi verranno presentate esempi di innovazione sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista delle risorse strumentali da poter utilizzare nella scuola, in modo tale che possa essere un catalogo di best practice perché la scuola possa metterla in atto e quindi effettivamente procedere a processi di innovazione. Come direzione siamo presenti con una serie di workshop immersivi e seminari, sia nel settore umanistico, sia nel settore matematico-scientifico. Abbiamo inoltre uno stand di 300 metri quadri in cui ci saranno materiali che gli operatori della scuola possono prendere e quindi poi utilizzare all'interno delle loro istituzioni scolastiche.